Salve ragazzi vi parlo dal mio canale che parla di informatica e linux specifico perché c'ho un altro canale che si chiama l'urlo scritto l'urlo staccato che si collega con un canale telegram lo faccio vedere si collega con un canale telegram che appunto si chiama sempre l'urlo il simbolo di questo canale è praticamente Homer Simpson che urla quindi si tappa le orecchie insomma un po' come il quadro proprio quello dell'urlo e su questo canale telegram collegato sul canale di youtube che dirigo sempre io praticamente trovate con questo video cosa vi voglio dire che trovate poi dal titolo del video già si capisce insomma quello che voglio dire su questo canale del telegram trovate tutte le puntate dalla prima serie all'ultima serie però io le vado mettendo a poco a poco perché sono giunto alla terza puntata della prima serie The Walking Dead tutto in italiano quindi non ci sono sottotitoli tutte le serie sono state fino ad ora fatte sette serie più l'ottava serie che in questo momento è in programmazione quindi praticamente tutte le serie io non ho tutto immagazzino cioè immagazzinato nel mio disco fisso però insomma li andrò prendendo a poco a poco quello che ho conservato nel tempo insomma li vado mettendo a poco a poco e troverete su questo canale io vado scorrendo scorrendo così vi faccio vedere qua ci sono io che dico qualcosa al gruppo per ora non siamo tanti però penso che sia importante chi cerca The Walking Dead o che già è un appassionato o che lo sta iniziando a vedere ora a scoprire troverai praticamente le puntate ecco qua ce n'è uno e qua c'è una puntata della la seconda puntata della prima serie quindi già potete scaricare la prima la seconda e la terza puntata della prima serie in più ho allegato qualche fumetto The Walking Dead sempre italiano che però in quel caso sono limitato sono limitato a 9 11 volumi se non erro però per quanto riguarda la serie tv cult degli Stati Uniti appunto della della Fox per quanto riguarda la serie tv darò tutte le puntate e tutte le serie fatte fatte fino a questo momento quindi chi vuole vedere scaricare The Walking Dead in italiano si può andare a scrivere sul canale telegram però mi raccomando dico iscrivetevi perché almeno facciamo gruppo invece di 10 membri diventiamo un po di più insomma vi do appunto queste puntate oltre a darvi queste puntate nell'altro canale io do delle opinioni mie personali su per quanto riguarda la politica le notizie attualità quindi praticamente potete scaricare tranquillamente senza andare nei siti dove mi sono imbattuto in certi casi anch'io e quindi ho preso dei malware su windows e ovviamente chi usa linux ha meno problemi con il browser e si deve risettare invece qua sul telegram il canale l'urlo news opinione che è mio personale l'ho creato io su questo canale trovate tutte le puntate del The Walking Dead cult movie della Fox qua si vede l'immagine appunto The Walking Dead che ho inserito in uno dei post che ho fatto sul canale telegram basta cliccare scaricate appunto le puntate basta cliccare qua e telegram vi fa scaricare le puntate ovviamente saranno 500 300 megabyte sono in flash video o avi ovviamente c'è qualche puntata che ho un po di più però insomma se usate anche telegram tramite il computer insomma vi potete vedere tranquillamente The Walking Dead in italiano proprio da qua sono giunto appunto come ho detto prima a tre puntate della prima serie perché ho iniziato da poco con questo canale telegram e man mano troverete io praticamente metterò a disposizione due puntate ogni settimana il mercoledì e la domenica di The Walking Dead e poi troverete le mie news e opinione insomma cose un po' così insomma potete la mia opinione per quanto riguarda la vita di tutti i giorni va e questo è tutto insomma quindi se volete scaricare The Walking Dead andate nel mio canale e questo è tutto e spero che su telegram la cosa vada bene diciamo si evita internet di navigare in internet per scaricare queste cose come ho detto prima insomma state tranquilli perché su telegram è passate dal mio disco fisso al vostro disco fisso quindi non ci sono problemi di malware e così via oltretutto io uso Linux quindi non ci sono malware e questo è tutto buona visione di The Walking Dead e un saluto a tutti di Salvatore Cottone a un prossimo filmato se lo farò divulgativo su questo canale o sull'altro canale mi andate a vedere anche sul canale ciò che ci sono scerzato ovviamente ciao ciao